buongiorno a tutti dalla zona rossa di alessandria dal momento che siamo tutti quanti a casa e fermi con il lavoro sicuramente mi sono detto che è il momento buono per registrare in italiano quelli che sono state le tue ultime conferenze allora la prima che vorrei proporvi e queste proprio l'ultima in ordine di tempo ma sotto certi versi anche la più importante e si intitola appunto talido mide una prospettiva storica ed è stata da me presentata il giorno 22 febbraio presso monte catini terme appunto in seguito a un congresso che si occupava appunto di questa importantissima tematica normalmente una persona potrebbe dire va bene lo scandalo della talido mide ormai appartiene ad un passato decisamente remoto perché è ancora un argomento un tema caldo beh semplicemente per il fatto che nonostante siano passati così tanti anni tantissime persone stanno ancora aspettando quelli che sono appunto i risarcimenti questo perché perché la legge italiana prevede un indennizzo per data di nascita e non un indennizzo per quello che il danno quindi se diciamo una persona rientra in un determinato intervallo temporale riesce ad ottenere quelli che sono i risarcimenti mentre se per esempio è nata nel 57 è nata nel 56 con delle malformazioni riconducibili alla talido mide o comunque a delle problematiche appunto teratogene durante quella che è stata la gravidanza della madre ecco che allora si vede negare qualunque tipo di indennizzo questa presentazione vuole semplicemente dare un'idea in primis del momento storico in cui la talidomide è nata entrata sul mercato e poi vuole anche dare una visione un pochettino più completa di quello che è il fenomeno perché potrebbe sembrare un qualcosa di estremamente risicato compartimentalizzato in alcune situazioni in realtà può essere molto molto più grande allora innanzitutto la talidomide compare sul mercato negli anni in cui vigeva una mentalità farmaceutica ben diversa da quella che è quella moderna nel senso era presente una sorta di asset mentale a livello di popolazione quindi non solo di case farmaceutiche ma anche le persone stesse che era legata appunto a questo super farmaco che cosa si definisce con super farmaco beh un super farmaco è quel medicinale che con una sola assunzione praticamente ti fa stare immediatamente bene è anche una mentalità che un po ci rincorre anche i giorni nostri no se vi è mai capitato di vedere una famosa pubblicità no di carlo il tecnico informatico che prende una pastiglia immediatamente sta bene siamo appunto parlando di quello ecco questa mentalità nacque dal positivismo dell'ultima metà dell'ottocento e si rafforzò parecchio tra la prima metà del novecento e la seconda guerra mondiale in questi anni nasce quello che il concetto di farmaco moderno e soprattutto compaiono sul mercato gli antibiotici quindi l'antibiotico il farmaco che ha permesso a tantissimi bambini di avere un'infanzia e diventare adulti nasce appunto in questo periodo anche l'abuso degli antibiotici purtroppo anche a scopo preventivo nacque appunto in questo periodo capita di vedere in quella che la ricerca storico farmaceutica dei farmaci per bambini con delle dosi di antibiotico praticamente da cavallo il culmine appunto si ebbe tra gli anni 50 gli anni 60 che sono appunto gli anni in cui si consumò lo scandalo della talidomide quindi per il super farmaco il farmaco ideale deve essere preferibilmente un prodotto di sintesi estremamente efficace tanto da eliminare una patologia con una sola soluzione e non può assolutamente presentare effetti collaterali per l'epoca non c'era non esisteva mentalmente quella che è la proprio la concezione no del dell'effetto collaterale tanto che anche nelle pubblicità per esempio di quelli che sono i barbiturici piuttosto che altri sonniferi e altri prodotti di questo genere no sono tutte quante delle pubblicità che tanto per dire sono tra l'allegro il tenero lo scherzoso no il fa dormire piuttosto che il serenol con la pubblicità del cane del gattino e poi c'era il sedobrol il sedobrol è un qualcosa di un estrema è proprio uno dei farmaci più subdoli che possano mai essere comparsi sul mercato praticamente altri non erano che dadi da brodo no con barbiturici quindi praticamente era un modo di far prendere il sonnifero o il calmante anche a persone che non ne avevano assolutamente voglia. Tra gli anni 50 e 60 si iniziano a vedere anche dei grandi cambiamenti nel senso che in questi in questo decennio praticamente c'è un passaggio dalla farmacia galenica alla farmacia di distribuzione che cosa si intende beh se io penso al classico farmacista di primo ottocento fino ancora agli anni 10 anni 20 del novecento penso ad un farmacista che sì certo vende dei prodotti magari a marchio però produce ancora tanto nel suo laboratorio ovviamente il fatto di poter acquistare poi rivendere i farmaci era un qualcosa di estremamente comodo anche perché mentre prima gli spazi dovevano essere molto più ampi quindi un laboratorio in tutti i casi tiene parecchio posto adesso insomma con semplicemente un magazzino era possibile avere anche un'offerta molto più più ampia per quello che è la clientela e poi inizia anche la nascita e il consolidamento del mercato parallelo a partire dalla seconda guerra mondiale allora innanzitutto c'è da dire questo che il mercato parallelo per l'epoca era una necessità a livello italiano sempre parlando degli anni della seconda guerra mondiale quindi un po' prima e un po' dopo la maggior parte della produzione era concentrata intorno alla città di milano e guarda caso la città di milano è quella che ha subito i bombardamenti più pesanti quindi da un punto di vista diciamo pratico non era possibile produrre la mole di farmaci che erano presenti sul mercato prima dello scoppio del conflitto e poi c'è anche da dire un'altra cosa che tante aziende molto molto grandi come per esempio quella che era la serono di roma con il secondo conflitto mondiale non se la passarono molto bene tra bombardamenti problemi nelle esportazioni del farmaco quindi erano anche in condizioni economiche abbastanza serie quindi effettivamente ahimè il mercato parallelo cioè acquistare farmaci da altri paesi e poi vendano in italia era una necessità e poi c'era ancora un'altra situazione che è molto molto importante e che non va assolutamente trascurata il fatto che dal 1939 al 1978 vigeva in italia il divieto di brevetto di farmaci praticamente è il regio decreto numero 1127 comma 1 dell'articolo 14 quindi in italia non era possibile brevettare farmaci per questo motivo tante aziende trovavano più comodo fare cosa e diventare il distributore per l'italia di un determinato farmaco quindi praticamente diventavano delle sussidiarie per l'italia di aziende farmaceutiche estere è un po il motivo attraverso cui la talidomide è arrivata in italia ancora prima di quelli che sono diciamo i dati ufficiali perché allora innanzitutto c'è da fare una piccolissima precisazione nel senso che la talidomide dal punto di vista chimico fa parte della famiglia degli analoghi isosterici dei barbiturici è una famiglia che è molto molto grande era ampiamente utilizzata come sedativo ed ipnotico durante gli anni cinquanta proprio perché negli anni cinquanta c'era appunto la ricerca no del sedativo perfetto con l'inizio di quella che la vita moderna la vita d'ufficio sempre più persone avevano difficoltà ad addormentarsi e per questo motivo c'era questo abuso spropositato di barbiturici e anche altre molecole che purtroppo avevano il problema di dare a suefazione di questa famiglia io per lo più in quella che la ricerca che ho condotto mi sono concentrata sul diprilone metiprilone la glutetimide la glutetimide e praticamente era venduta sul mercato con il nome di doriden nome commerciale ed era prodotto dalla ciba e il glutetimide era praticamente quello che era il competitor principale quindi il concorrente diretto della talidomide ovviamente tra il diciamo da un punto di vista semplicemente storico quello che noi appare che tra gli anni tra il 1959 e il 62 le diciamo i farmaci che erano presenti appunto sul mercato italiano contenenti talidomide erano i più svariati nel senso si andava dall'imidene sedimide profarmil quetroplex gastrimide midene ipnotico quetimide sedovalucerfen e le aziende che producevano appunto erano concentrate quasi tutto tra milano e torino nel senso che avevamo la smith che era appunto una delle principali poi c'era mugolio quella la stessa dei chino mugolio le supposte antifebbrili per bambini poi c'era la farla profarmi vipsa vailant biocorfa italfarma e così via però questo non significa perché perché basta sfogliare un giornale per medici inglese o tedesco per vedere la pubblicità della molecola già nel 1957 quindi è comunque un qualcosa di diciamo anche da un punto di vista logico pensare che esistendo un mercato parallelo del farmaco questa molecola potesse essere presente sul mercato già ben prima di quella che appunto è la data ufficiale cioè il 1959 infatti qui nella slide sono riportate alcune immagini per esempio del distaval del corner gun della grunental che appunto il farmaco con contenente talidomide che era uno tra i più venduti sul mercato e poi il softenon e questa situazione è anche stata tenuta conto da quello che è il conto sommario della commissione bilancio tesoro e programmazione della camera del 9 aprile del 2015 nel senso che già nel 2015 ci si era resi conto che effettivamente un certo numero di donne in fidanza potevano aver reperito quello che è il talidomide sul mercato parallelo questa è un'immagine che appunto è tratta da life magazine del 10 agosto del 1962 che appunto racchiude tutti quelli che sono i nomi commerciali dei farmaci contenenti talidomide ovviamente questo è una sorta di richiamo ufficiale spesso e volentieri si trovano questi box riquadrettati di rosso soprattutto su quelle che sono le riviste femminili e proprio perché la talidomide quindi il counter gun era destinato ad un mercato prettamente di donne proprio perché era un farmaco che era venduto no o comunque brandizzato come sicuro anche durante quella che la gravidanza ovviamente diciamo che questo è quello che appunto è deducibile da i dati che abbiamo al momento però l'approccio che finora è stato tenuto è un approccio che comunque lascia alcuni alcune problematiche decisamente insolute per esempio in quella che la ricerca che ho svolto sono emersi alcune cose decisamente interessanti